Da oltre 20 anni al servizio della vita e delle famiglie, è difficile raccontare cosa è e cosa significhi l'ARC, i nostri figli, per gli oltre 350 bambini che ogni anno, assieme alle loro famiglie, arrivano qui, a San Zeno in Monte, a Verona, un po' da tutta Italia. Qui, attraverso l'opera attenta e scientifica del dottor Castagnini e di tutto il suo staff, si impara a capire che la prevenzione e la riabilitazione dei danni dello sviluppo neuropsicomotorio del bambino è possibile ed ha risultati sorprendenti. Miracoli proprio non ne facciamo, ma cerchiamo di fare in modo che il bambino abbia da sviluppare il potenziale che ha dentro nella maniera ottimale, nella maniera più grande possibile. È chiaro che abbiamo dei risultati buoni, perché? Perché partendo da piccoli si ottiene proprio cose molto interessanti ed è scientificamente dimostrato che l'inizio precoce dà risultati eccellenti. E' vero anche che i genitori, venendo istruiti a collaborare con noi nel ricupero, nel potenziare e sviluppare e facilitare lo sviluppo del bambino, modificano il loro rapporto sia con le istituzioni, sia con il bambino loro, sia con la società quindi, sia anche con Dio. hanno, capiscono più in fretta che rimboccarsi le maniche non solo migliora il bambino, ma migliora anche il rapporto familiare, la vita di famiglia. Quindi si diventa questo mutuo soccorso che per noi è vita familiare, dove noi diventiamo zii o diventiamo nonni, i genitori sono i nostri amici e i bambini sono i nostri nipotini. A testimonianza che la vita è un dono speciale ed unico, l'esperienza di una delle tante mamme che frequentano l'ARC. Si chiama Laura, è mamma di Emma e di altri tre figli. Attraverso il metodo appreso qui e attraverso la rete di relazioni che necessariamente si vengono a creare, riesce a vivere serenamente le difficoltà e le gioie di una famiglia numerosa e di una bimba speciale. Che cosa vuol dire per voi il primo febbraio, la giornata per la vita, alla luce della vostra esperienza? Per noi la giornata della vita è molto importante anche perché siamo una famiglia numerosa, abbiamo quattro figli, la Emma e la terza e per noi aver trovato questo centro è stata l'infa vitale perché nella nostra vita, grazie a Don Mario e al suo staff, siamo riusciti ad inserire Emma perfettamente e a farla diventare normalità. Di fronte a un dono, perché Emma è un dono come tutti gli altri vostri tre figli, che cosa dire a quelli che vedono degli ostacoli insormontabili? Che è tutto quello che ti gira attorno, che ti fa sembrare insormontabile l'ostacolo, perché in se stesso tutte le situazioni sono affrontabili anche col sorriso e con la serenità della vita di tutti i giorni.